no non saluto te davide bisogna salutare ea tutti gli ascoltatori di rock di sera eccoci qua siamo tra San Francisco e Seattle con un predo della madonna ci potete seguire sul facebook guardate qua ci potete seguire sul facebook tra poco pubblicheremo i web webisode con tutta la telecronaca dei concerti ciao